Ti adoriamo, Ostia Divina, ti adoriamo questa sera qui, Ostia Divina esposta davanti ai nostri occhi, e riconosciamo in te, Ostia Divina, il Figlio di Dio immolato per la nostra salvezza, Dio che si è lasciato sotto le specie del pane per vivere con noi, camminare con noi, per darsi a mangiare a noi. Noi ti adoriamo, Ostia Divina, ti adoriamo, Ostia Divina, ti adoriamo, Ostia di Amore, si è rodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento, si è rodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento, si è rodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento, oggi è sempre si è rodato. Cerchiamo, fratelli e sorelle, di trovare il nostro posto, siamo qui davanti a Gesù, ed entriamo in un clima di preghiera, non stiamo in un clima di attesa, Signore Gesù, noi ci mettiamo qui davanti a Te, il nostro spirito, anche che noi siamo seduti, è genuflesso davanti a Te, e noi in questo primo momento ti vogliamo ringraziare di tutto quello che Tu hai fatto per noi, o Gesù, noi riconosciamo in Te il Figlio di Dio, venuto in questo mondo, riconosciamo in Te colui che ci ha amato fino alla fine, che si è lasciato in questo Sacramento per nostra consolazione, per nostra guida, per nutrizione della vita soprannaturale che Tu hai dato mediante il Tuo sangue. O Gesù, noi Ti adoriamo in questo momento, ringraziamo il Padre che Ti ha mandato a noi, Ti rodiamo e Ti benediciamo perché sei meraviglioso nell'amore, perché non cessi di amarti, nonostante che noi non Ti amiamo, nonostante i nostri peccati, Tu sei Dio con noi, cioè buono e misericordioso, Dio di amore per noi. O Signore Gesù, in questo momento riceve l'offerta e l'obbolo del nostro poco amore, della nostra poca rivoluzione, e Ti chiediamo in questo momento, aumenta la nostra fede, aumenta la nostra speranza, aumenta la nostra carità. O Signore ha detto nelle scritture, non Ti presentare al Signore tuo Dio a mani vuote. Non possiamo presentarci a mani vuote davanti a Te, ma che cosa c'è nelle nostre mani, O Signore? Quale sacrificio è nelle nostre mani? Quale offerta, qual olocausto è nelle nostre mani? Per raffirle a Te, le nostre mani sono vuote. Non dovremmo neanche essere qui presenti, finché non si riempiono le nostre mani, per offrirti qualche cosa a Te. Ma Tu, Signore, sei il misericordioso. Non hai bisogno di sacrificio, d'elocausti, di pingui offerte, di fior di varina. Hai bisogno del nostro cuore. e noi Te lo offriamo così come carico di peccati, carico di ferite, carico di tensioni, carico non tanto di virtù, quanto di vizie. Te lo offriamo, Signore Gesù, accetti il nostro cuore. Noi crediamo in Te e Te lo offriamo con fede, io, Signore, questo cuore, perché Tu accetti quel poco amore che noi Ti possiamo dare, perché Tu vuoi arricchirci della Tua santa carità, perché possiamo amarti ancora di più. Sierò dato e ringraziato ogni momento. Sarà in mezzo a molti popoli come ruggiata, mandata dal Signore e come pioggia che cade sull'erba, che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dei figli dell'uomo. Signore, noi tutto speriamo da Te. Tu sei la nostra speranza. Ecco perché ci rivolgiamo a Te. Signore, viene in nostro aiuto. Signore, ci accorgiamo quanto male sta attorno a noi. Quanti malati, Signore, le malattie fioccano. Non c'è casa dove non ci sia un malato. Quanti disturbi del maligno attorno a noi. E non sono i disturbi soltanto fisiologici, psicologici. Sono disturbi reali che il maligno tessa attorno a noi per rovinarci. Disturbi all'anima, disturbi al corpo, disturbi alla salute psichica e alla salute fisica. Signore, noi gridiamo a Te. Tu hai lasciato libertà agli sciami delle malattie di impestarci. Come sciami di cavallette si sono abbattuti su di noi, sul Tuo popolo, su cui è stato invocato il Tuo nome. Tu hai permesso che i sciami di spiriti maligni si abbattono sulle nostre case, sui nostri bambini, sui nostri giovani. Noi vediamo tanto scempio e gridiamo a Te perché il male è occulto e gli uomini non si accorgono se non troppo tardi. Signore mio Dio, gridiamo contro le malattie. Gridiamo, Signore, contro tutte le violenze che gli spiriti del male fanno a noi. Gridiamo a Te. Vieni in nostro soccorso, Signore. Vieni in nostro aiuto, Signore. Guarisci, Signore. Liberaci, Signore. Salvaci, Signore. Gridiamo a Te con tutto il cuore. Tu solo puoi salvarci. Tu solo sei il liberatore. Tu solo sei il salvatore. Tu solo sei il medico. Oh, Gesù, gridiamo a Te. Vieni in nostro aiuto. Vieni in nostro aiuto. In tutta la tua vita, debellando il nemico, sia anche potente qui in mezzo a noi. Noi vogliamo cantare nella fede e nella tua potenza. Tu ci guarirai. Tu ci libererai da tutti i nostri nemici. Signore, noi a Te cantiamo, cantiamo la potenza del Tuo braccio. Tu che dicesti al paradisimo, tu che dicesti al paradisimo, alzati, prendi il tuo lettuccio e va. Tu che dicesti a Bedesda, a quell'altro uomo che era inferma di 38 anni, va, ritorna a casa tua, prendi il tuo lettuccio e cammina. Tu che dicesti a tanti ammalati, siete risanati. Tu che dicesti a tutti, confidate. Tu che facesti tanti e tanti segni nella tua vita, Signore Gesù. Anche questa sera rinnova i Tuoi prodigi, soprattutto quelli interiori. Rinnova le Tue liberazioni dall'insidio del maligno. Converti i nostri cuori, Signore. Richiama gli erranti. Risusciti tanti.